Buon tardi, nos chiediamo a Natur, vidente e oyente di Solution TV. Contento che mi chiamo a Solution TV con il vostro porto sintonizzando Solution TV nel programma Dialogo Universal. Io presentavo il vostro servizio, mia persona, la tua artianga, e sempre vai con un invitato speciale. E a buon tardi, noi abbiamo un invitato speciale con il nostro desconocito, Qu'è anche il Vincenzo, e anche il Romano Edmontese Dora, poi si arriva a la camera e anche a la pantalla, con i nostri giunti, il programma Dialogo Universal per Bolsonaro, che sta sintonizzando a buon tardi. E a buon tardi, il mio titolo è lo che noi stiamo a dialogare, che ci sono come la regla, il mandato di lei, la bomba energia verde. So come la regla, il mandato di lei, la bomba energia verde. E questa è la quale è titolo. E sempre, per me, quando noi stiamo a vedere il programma, noi stiamo a chiedere un' persona, e molto specialmente sono con nostra invitazione specialmente la prima volta la mia vincenzo va a dare una parola di orazione per noi è un piacere di parte di acepare la invitazione con piacere e noi dice la nostra orazione di reverenza Signor Dio Stato Todopoderoso a Bucutamora del Santuario Celestial santificare e bendicione per sempre e per sempre diante Cristo Jesus il servizio con il gusto per cercare il Signore per chiedere la presenza del Santo Spirito per seguirciando per noi e per conversare con noi che ci sono a toccare il tema per tracciare nella nostra memoria e per despertare dentro e per ascoltare il comprensione necessario per il nostro mistero per comprender e per praticare e la cosa che ci sono attraversi nella nostra mente della vita Signore Alleluia e la nostra chiedere per il Romano e la mia persona per tracciare il Santo Spirito passino di lei di lei vanno per energia verde versicola per tracciare per tracciare è herida mortal il sistema papal ha già d'ordine Napoleone nel 1798 anteriore nella Represione 13 versicolo 13 un di sua cabezza come se fosse sa qui ha guardato herida per morire però sua herida fatale ha guardato curare e promete curare qui abbiamo aviso il 11 februari 1929 nel Tratato di Letran e la autorità è ora è per virare il Vaticano un paese no democraz come se mi ha detto republicano Italia è questa che sta vedendo e oyendo per comprender mentre la mente è qui per comprender e interterra a quella sombra e così è qui tra mia bestia Il comienzo di unificazione di Iglesia del Estado, plana, eccetera, a iniziare con Juan Pablo II, e con la condizione del cambio climatico e il descanso di Domingo, con la Lucas 24, un'avisata, un'arribe promete di un'amor di un'ambiente bon trentang, una bayanetumba, e un'amor di 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 un'amor. E se qui non ti usa come un'amor di 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 un la giornata è il giorno di preparazione per il descanso il 24 ore e il 3 e il risultato in Matteo 28,1 è il risultato il plan di energia arriva al mese non è nulla per la sombra è la humanità nel principio di creazione nel principio di creazione nel principio di creazione e la vita a teori ci diciamo che ci succede nel principio di creazione e nel principio di vita nel principio di vita a teori in Genesis 1,27 per la sombra e gli anni 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 Anche Dio abbendizionano e Dio abisano che sia frutti vero, multiplica, piena e terra e assi e sottotitoli e goberna. Arriba piscana, arriba lamana, arriba paranang, arriba di cielo e arriba torcer vivo con la terra. Arriba e terra. Anche Dio dice, mira, mia duna posso, ma non è poi se ti butti nella pantalla, guarda. Turmata con la duna simia, riba superficie di interterra e turpalu di frutta con la simia. E sei, l'altro pacumino da Paboso. E per turbesia di mondo tambe. E per turparo di cielo tambe. E turlo che tra l'astra riba terra tambe. Tutti in vita, mia duna turmata verde pacumino. Assina, tabatata. Al principio. Mi sa come che commenta al cuore, Melvi? Sì, basta informazione. Ponderata, po' tabatata che parte tu. E pide con me che era commentare in verità. E parte con questa pregunta di con il Papa, che è in verità, che è il leader. E noi mi ricordiamo profeticamente tambe. E tu sai? Dio, non è così, è il versicolo che va realizzare in rivelazione 17, 1 e 15. Dio, non è così, è in verità con il Papa e tabatata, con la comissà, con il tabatata, opprimei, gente. E per via di prostituzione, con il Bible usa altre parole, fornicazione e alianza entre cristianismo apostato e il potere politico di terra. e all'altro, con il Papa era una rivelazione su��ane per la vita. C'era un senno di questo tuo viaggio per la sua poteza. E qui era un'evoluzione mondial. E in realtà era un'allianza mondiale, un'università. E per seguire la obra di Dio, e mentre è l'evoluzione per la sua. che è santo, non. Quindi pensi che è arrivato a una birra. Però è l'accordo di ridare, in modo che mi resta l'ordine di rivelazione di estresse, quindi è l'accordo di buttare la parte di ridare, l'accordo di sanare, da un pacto di letrano che parecce. Quindi è un pacto che consiste in tre acuerdi. Quindi è un accordo che promette, tratta e rivelazione di soberanía del Vaticano che ha. E tratta di relazione tra l'Iglesia Cattolica e l'Estado Italiano. Anche di tre, tratta di recompensare l'Estado Italiano a otorgar il Vaticano per il motivo di sua perdita. Dentro, ora è la guardia e l'herita. Exactamente. Que la perdita è differente di sua Iglesia e la pertenenza a un altro. e l'anno un'compensazione PCI. Monetario. Monetario. Ok. Monetario. E quindi, non sta mirando. È un pacto di letrano che deve riconoscere il Vaticano come un' propria dà plena, un'podere exclusivo e absoluta. Juridicione. Soberano, rive, ciudad vaticano. E quindi... come rei di città. Un'città chiquito di 44 km2. Il attento di provocazione di attento contro di poter soberano pontifici, io voglio trattare ugualmente come attacco ai rei d'Italia. Ok. Dei tempi. Questo è il pacto che sta stipulando. Il atticolo numero 8 sta stipulando con l'Italia sta considerando sagrado e inviolabile le persone di soberano pontifici a detta declarare tutto l'intentato, ma non è che abbia bisogno. e quindi, per favore, faccio tanto considerare a me che il territorio rive su mese sta un po' con povera di viola. Come? E se io passavo dentro di due guerra mondiale cammina Hitler da di maniera un lì e d'accordo se mi vengono e non puoi passare e pidi. Esattamente. Poi, mira, ti ha questa guerra. Sì. Perché mi è contento che ho fatto alcune esplicazioni di se mi vengono e non mi vengono e non mi comprende in realtà perché qui con noi stai visto con il Vaticano? Sì. Perché, non mi vengono l'origine. Ora non mi vengono di ossa d'una turmata verde e comina, eccetera, ma è ci stai mettendo in la pantalla per vedere che gli altri non mi vengono. Sì. Perché, non mi vengono l'origine organica ma è il plan mondiale di controlli nel primo luogo di il descanso che Dio stai mettendo l'origine. Sì. La vita va in l'origine però è il plan di controlli Dio sta visto in Gènesis 2 1 24. Sì, non mi vengono ma è ci stai mettendo in Gènesis 2 il tempo che non mi vengono ma è ci stai mettendo in Gènesis 2 con la ausenza di picare e la transformazione completa del mondo con il tuo luogo e la nostra mira che Dio sta bene che va a vedere nel comienzo anche 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 che va a vedere e non è un paro di matanza di criatura anche anche di carne anche ma è è l'enseanza di santa di picare a trezza morto del mondo sta mostrando il nostro buoncchio è il propósito originale di Dio sta con niente di animale per la vita per provare una cosa di alimento ok ma è ci stai che mi vengono sin embargo nel programma mondiale è controlli della naturaleza di Dio va a vedere come è un po' di romano 1.25 è un po' di romano cambia la verità di Dio per una mentira e adorare e serve criatura invece di creador che deve bendicione per sempre nel sentito a ora viene il plan che città mondialmente modificando comina che sarà con un con quante sistema natural con lei natural di ora lo qual con Dio adunano per me ma io nantam e per labra e cultiva etera di adunano di adunano di lupio di di per me ti c'è to carne La carne, non? Anche la vista, sa che non amo un po' come Tu restai Però, mira, ho fatto un sistema Di modificare la comune Sera Sì, secondo Genesis 9.3 Sì, Genesis 9.3 Con la linea natural Da obra També per adorare Criatura Invece di creador Invece di creador Honor Na Pachamama Terra e star Nè tempo che non stavamo O tempo che ti dedicati A diosa di fertilizzazione Exatamente Con la comandazione non che modificare Adesso è ser humano che lavorano Criare Diferente Sacrificare non è diosa Sacrificare non è diosa Etc O bambino vittente Non si ti explica Non è diosa Non è diosa Sino un diosa Un diosa Un diosa Di fertilizzazione Qual E non è diosa Di soli Questa è già Domingo Adesso Dio Adesso 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 Dio Autonomio 419 Tene Cuidado Adesso 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 Ma quasi non è stato il Diocio che è quello che è. Esattamente. E quindi è idolo. Non c'è l'occhio, ma non c'è l'amera. Non c'è l'occhio, ma non c'è l'opera. Adesso non c'è l'accusa di comunicare con gli adoratori. Non c'è l'accusa e non capta la necessità di essere il rei. Ma non c'è l'occupo, ma non c'è l'occhio, molto contento, Perché tutte queste persone non c'è l'occhio e non c'è l'occhio. E un robot. Intelligente artificiale. Ma sia il bontino quello. Si, si. Quindi non ho notato come. Quindi fin va dunque, tutti i roboti che sono venuti. Si, e poi è l'occhio come dietro. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. , , , , , , , ,... ,..., , , , , , , , , ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, non ha resuscitato il gran trono blanco lo presenta Inan in relazione 20-5-5 Inan è buco di vita che ti guardo abri Gloria a Dio Amen Romano E ora sei dita è una excepzione di snacco nel nome di buco di vita e ora quel milaio che ti guardo se ti guardo di loro fuori su prisione ma un tempo cortico e Dio mi riconosce che ti guardo e ci guardo di lago di candega Amen e lo è sali un biamas e la gana è nascita e quattro schiena e la goc e la goc per rinare la guerra final la candidata di questa maniera santo di l'amang e la sua bimbing e la sua bimbing la terra Aguardo tirato nel lago di Candela Revoluzione 20 e 10 Iswafel, cammino di bestia E il profeta falso Tambeta E non aguarda tormenta Di dia a noci Passiamo per esempio E se non lo viva E se non lo viva E se non soffre daño di Candela Lo trapa arriva E si nisci di estate E il guardo destruir Malakia 4, versículo 1 Passiamo, mira Di a tabini E lo cima manero un forno E tu regende Arrogante E cada acido di maldad Lo tabagas E di a tabini Lo sende La Candela Signor di Egercito Non ti avisa Asi ne con ni non reis Ni una rama Non queda Ma pa bozo Oh vidente Oh vidente Oiente Pa nos Alleluia Oh boizia Mico Melvin Como boizia Pa nos Solo di justicia Solo di justicia Lo sali Con curamento Denzuala E vos solo sali Bularon Manera bisena E vos solo sali E vos solo trappare Ibi malpado Nang Pa soma Nang Lo tachinishi Pao di vosso plan de pia Amén La gripe dia Comi a prepara Signor di Egercito Nanda bisena Que ben Rumana Preparamos san No se explica tu rego aqui papo Poco compro onde Paso Tiñe dia Eta bin E dia E futuro E dia E dia De Jehová Dios lo Ejuta Huicio E justicia Ribitura Impiona So Arrufa Buntan Denz Grupe Ojalá Cu cada uno Dostade En parte De justicia De Dios Obedencia Dico Paso Dios Será No Obedar Vente Sabe Dentro Yende Cu Dios Don Candela Devorador Y Toch Eta Purificador Amén E que purificamos Pensei Juan Di Esungo Tambien Esbe Dime Lo Bautizamos Con Espiritu Y Candela Para Purificamos Para Soma Señor Dios Da Un Candela Consumidor Un Dios Y A Luz Para Soma Es Candela Para Distruir Y Purificar Entera Terra Camino No Tien Maldad Mas Un Tien Picabas No Se Lo Viva E Dan Tien Lloramento Tien Mordemento Amén Amén Thank you Melvin Thank you Señor A Tarde Amigo Melvin Unto Po Si Por 13 Dialogo Kipapasang Lo Miquel Lagapos Comprondé Kutin Un 13 Man Kus Nos Lotei B B S Seminario Kus Seminario Manda Papos Si Kutabib Bafo Pero S Kepa Tur Kutan ragazzo, vieni, vieni al seminario del Rodeway, del lugar di di deporte in un lugar blau delante Bresalto del Colom, vieni e vieni, vieni a ascoltare cosa, assina inmenso, vieni a comprender e al caso e al caso, vieni sinceri, con la parola orazione vieni a compagnia amante tata, danke per privilegiare per un dialogo con tutti i persone per comprender il asunto di sometere la regla di lei mandato per energia verde che realmente significa per back aiden ojalá per comprender, per preparare per andare aiden per creare la regla di lei che non si è morto per fare la regla di lei che non si è morto per fare la regla di dolore per fare la regla di lei durante 10 sábats non ci sono non ci sono grazie 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 e seguite il seminario che vi faccio di una maniera speciale il nostro figlio è il nostro despedito e ci sono arriva il video qui guarda e ci sono 3-4 ci sono il programma di alogo qui però voi solo vai mirare a noi a noi il programma con il nostro il seminario ciao a te altri di alogo con il potere dios amè tremendo dialogo universal fa un intercambio di palabra e idea e pensamento entre dos o mas persona dialogo universal dialoga riba diferente tópico assina llegan solucion e conclusión basa riba isaias un 18 bin awo il l'agano razonar junto señor tapisa dialogo universal well abotan betta invita l'agre l'agre Buon appetito! Prendimento! Prendimento! C'è un salto! Specialmente! Drio Rato! Festa! Online! Prendimento! Emo! Avergare a trisciao blanco e coloro! Tutti da zona! Tambi da possibile! Passporto! Business card! Cribo coppie! Frené! Pen! Tambi ribo patch! Festa! Online! Prendimento! Emo! Noss! Of Epnoss! 523 9743 Delivery Tambi da possibile! Prendimento! Prendimento! Problema con prensión, colesterol e diabetes Noss comina nantabajabo de peso Anto mantenemo nabo peso ideal Consciente nostad lo que nos creador apone pa come Noss da coxine pa bo Con un experiencia amplio De masco 22 años trabajando como coxine hospital Ring of App Noss 6810 528 Off 66813 56 Off 8682962 Off 523 8834 February Special? No no no! Super Special! Un dieta balanza! Calat salada Fruta Sopi Salada traja Ture saque pa solamente 10 florines Asi bobo stelen Promeku ya sabra Y nos lo entregue nabo Na comienzo Bolexante natural ta clapada ta guardabo Llamonos of Epnoss Na 6810 528 Off 66813 56 Off 8682962 Off 523 8834 Bona saluta Bona saluta de un bom man Cuide pa bo No tin cu lamentar No tin duda Ora ta papia da flor Anto ta Lenis Flower Shop Pa poca zonan special I sugo nosa Kiko bo regalar Haciele cu flornan di Lenis Flower Shop E floresteria cu un toque professional E con un piame de experiencia Rinduos na 76732 jesun E ta casa ta casa Llamonos 76732 jesun I pa bobreus buket Corsaja E un filmachon Foi comissamento Te cavamento Ta Lenis Flower Shop E tambe pa momento na difícil Na pede da na Dicernan Querii Porque demostravo sentimento O por Haciele cu flornan di Lenis Flower Shop Rinduos na 76732 jesun Un simbolo di paz Amor e harmonia Lenis Flower Shop Valorar Corsau Sua historia Cultura E gerencia Lo bolosa Mas de lo que monota bata sa Un book Escribi Pai Autor Edward Yanga E book Aqui E con reconocimento de Corsau Su valor Su historia Cultura E gerencia Obtenible Na book Andal Samsung Casti Babel Coran Amigo E escritor Edward Yanga Llama Off App 6643563 Turco Rosaleno Mester Tine Denancas Pa comprandemento E valoración Di Corsau Dialogo Universal A un intercambio Di Palabra E idea E pensamento Entre dos Of más personas Dialogo Universal Dialogar Riba Diferente tópico Assina llegan a solución E conclusión Basar Riba Isaias Un desotro Bi A uo y la Diferente tópico Diferente tópico Diferente tópico Un desotro Diferente a